Cosa possiamo ricordare di Policarpo Messa? Policarpo Messa è un personaggio molto importante per la zona della Val Azzurra e la Bellissima Valle. Praticamente ha vissuto tutta la vita la trascorsa nella zona del Moschel, con la bellissima Valle, Valle Azzurra. Policarpo Messa, noi lo chiamiamo Carpo, però è un nome importante, come diceva nell'Omelia il nipote Don Leone Messa. Policarpo è nel nome di un vescovo. Policarpo vuol dire anche abbondanza, perciò un nome appropriato al personaggio. Un personaggio che ha fatto storia, anche nella sua umiltà, nel suo modo di vivere, semplice, ha fatto la storia del Moschel, perché quando io salivo nelle varie stagioni al Moschel non tralasciavo di andare a trovarlo, chiacchieravo volentieri con lui perché era molto informato, voleva notizie sull'andamento, su quello che succedeva in zona, anche nel mondo. era molto informato appunto e voleva notizie in modo particolare dei familiari come stavano, come andavano i nipoti. Perciò devo dire che quando queste persone lasciano questo territorio, se ne vanno per i pascoli dell'aldilà, per i pascoli, come diceva appunto Don Leone Messa, è appropriata la canzone di Don Marzi, Signore delle Cime, è appropriata a questo personaggio. Lascialo andare per le tue montagne. Ci ha fatto un'omelia a Don Leone che devo dire che era da registrare e da trasmettere perché è una cosa molto bella, ha prodotto molto bene il personaggio Policarpo. Con lui devo ricordare ad esempio Veniero del Monte Alino e Santì della Valsedonia, Santì è ancora vivente però non sale più ai pascoli della Valsedonia, sono personaggi che hanno fatto storia e hanno fatto da guardiani del territorio. Era bello parlare con Carpo, ne ho chiamato Carpo perché per noi era usuale chiamarlo così, quando lo mettevo in posa per fargli qualche foto, ne ho diverse foto, poi era titubante, poi ho detto dai dammi a me quella macchinetta lì che gli faccio vedere con la digitale, adesso il risultato delle fotografie era molto interessato anche a vedere come usciva dalle sue foto. L'ho trovato in diverse stagioni, mi ricordo un anno, mi sembra del 2004-2005 c'è stata una forte nevicata in inverno e c'era un metro e mezzo di neve, io salivo per fotografare i faggi, i bellissimi faggi della Verzuda con la neve e lui ha dovuto sparare tutta la neve dall'inizio delle vaite del Miosco fino all'entrata del bosco per poter scendere con le mucche che aveva lì nella stalla, per poter scendere nella zona di Fondra. Praticamente Carpo è nato nella zona di Ross vicino alla bellissima cascata del Vervé a Valzurio, poi ha trascorso la sua vita praticamente nei pascoli del Miosco, in Fondra e sul Colle di Blum. Aveva anche una vaite anche lì, perciò un personaggio diciamo che era bello parlare perché conosceva bene il territorio, l'andamento delle stagioni e devo dire grazie ancora a Don Leone per la sua omelia durante il funerale di Carpo perché ha prodotto molto bene il personaggio e lascialo andare appunto nelle sue montagne. Ciao Carpo!